ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale eccomi qua sono al creative village a verona sto iniziando ad allestire il mio stand questo questa volta questa fiera oltre a proporre le mie creazioni proporrò anche una serie di corsi di corsi dove voi potrete imparare un pochino dalle delle mie tecniche sono molto emozionata e molto contenta per questo eccomi finito di allestire sono pronta qua ci sarà il tavolo dei corsi tutto qua bene allestito pronto e qua invece ci saranno un pò dei dei miei gioielli bene sono le sette di sera sono un po stanca un po si vede e vi faccio vedere anche qua sopra lo striscione è questo vi aspetto domani e ci vediamo eccomi qui il gioco oggi è il giorno della fiera sono pronta il mio outfit di oggi è questo un bellissimo vestito verde pistacchio più o meno verde pistacchio sono carica sono pronta sono un 9 speriamo che vada bene a dopo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Ci vediamo domani. Buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati. Secondo giorno di fiera. Siamo pronti per partire. Sono le sette e mezza. Sono qua a bere un caffè con la brioche. Qui al mio barrettino preferito, qua fuori casa mia. Sono carica, sono pronta. Il mio outfit di oggi è questo, un bellissimo vestitino giallo. Mi fa un po' più cicciottella, però fa niente, perché mi piace, è il mio colore preferito. È un po' tovaglio della nonna, però lo adoro. Siamo pronti per partire. Speriamo che vada bene come ieri e magari oggi se riesco a avere un attimino di tempo faccio anche un giro all'interno della fiera e vi mostro un po' quante cose belline ci sono. Perché non c'è solo creatività, perché è una fiera del collezionismo, Expo Model si chiama. Quindi modellismo, collezionismo, mondo lego, insomma c'è là veramente. E un'infinità di cose meravigliose. Magari oggi riesco a fare anche un giretto e vi faccio vedere qualche immagine. A dopo. Ciao, ciao. 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 Ciao.